E' importante questo aspetto, diciamo food economy, noi abbiamo chiamato questo momento food economy perché l'aspetto economico, cioè il ritorno economico del prodotto, del cibo locale è elevato, non solo per quello che è immediatamente il ritorno, nel senso vanno le tasche di qualcuno che sta qui e che fanno rispende qui, ma anche perché questo consente di conservare un territorio che altrimenti costerebbe molto di più mantenere.